C'è bisogno di più dosi perché la macchina adesso è partita, è ben oliata e quindi bisogna mettergli la benzina dentro per poterlo fare e per poter vaccinare. Mi sembra che il ruolino di marcia è quello giusto e quindi adesso dovrebbero arrivare anche alcuni altri vaccini, l'italiano, uno italiano, uno tedesco e quindi dovremmo un po' migliorare e dovrebbero aumentare anche le dosi, soprattutto a partire da giugno. E quanto ha ribadito in diretta su Rete 8 nel corso della trasmissione Pronto Medicina Facile, curata e condotta da Paolo Castignani, Maurizio Brucchi, referente regionale per le vaccinazioni e direttore sanitario della ASL di Teramo. Il dottor Brucchi ha fornito anticipazioni sulla visita del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha risposto alle tantissime telefonate ed email dei telespettatori arrivate in redazione e ha fornito rassicurazioni sull'efficacia dei vaccini, in particolare su AstraZeneca. Ribadisco ancora una volta che la nostra è una buona campagna vaccinale, noi abbiamo vaccinato la scuola, dicevo siamo a percentuali che sopra l'85% e c'è una quota parte di personale docente e non docente che non si è voluto vaccinare, questo va detto perché noi abbiamo chiamato e richiamato. Perché respingevano AstraZeneca, no dottor Brucchi? Si parlava di un 28-30% di AstraZeneca rifiutati. Le percentuali prima erano più alti, adesso sono scese, per esempio sul Teramo abbiamo percentuali più bassi di rinuncia del 7-8%, però c'è un 7-8% di rinuncia, perché su questo vaccino secondo me si è sbagliata un po' la comunicazione. Giustamente prima abbiamo detto che era buono fino a 55, poi 65, poi fra e sopra i 60, noi abbiamo fatto tantissime dosi di AstraZeneca e grazie a Dio non abbiamo avuto nessun problema, invece l'altro giorno per esempio anche con Pfizer abbiamo avuto una complicanza, quindi io non demonizzerei questo vaccino e solo questo vaccino. Vaccinarsi ha qualche rischio, ma come ce l'ha anche chi prende la pillola, le trombosi da pillola sono superiori alle trombosi da AstraZeneca, quindi ecco anche un invito ai cittadini, andatevi tranquillamente a vaccinare. Chi decide il vaccino è il medico vaccinatore, che in base, secondo scienza e coscienza, se pronto alla propria capacità e professionalità decide che tipo di vaccino è più idoneo, bisogna fidarsi del medico.